ci stai? ci stai hanno fermato Matteo e gli stanno a fare scattava la macchina della polizia dai gli stanno a controllare la moto non lo so trago ok trovo abdicato trovo abdicato si vedo qui si va bene chi ha detto? niente stanno devo scherzare spero non sta degenerando stai vicendo questo non è attivo anche noi con le moto se mi fermano a me la moto la buttano direttamente mettete davanti tu non guarda che cosa sono talmente impegnati ma io sono stati zanzaroni che dici andavo lì? senza moto però ma no mi sa che sono stati fa male dei documenti tu madre vabbè no guarda tanto che ci posso dire non ci hanno visto noi no ma vabbè andiamo lì diciamo che stiamo tornando dal Vaiani lì ma non